Stasera 20 e 30 Gli ignoranti terrà una conferenza Assieme agli studenti su cosa non si sa Adriano è meglio che canti Adriano che parlare Adriano ma perché ti lamenti Tu e i tuoi figli siete fuori dai guai Dai guai dai guai dai guai dai guai Non avere argomenti è triste se si crede Di dare insegnamenti a chi sa più di te Perfino Enzo Biaggi ma come l'hai coinvolto L'ho visto un po' stravolto mentre ripeteva Adriano è meglio che canti Adriano che parlare la rai la rai la rai la rai Adriano ma perché ti lamenti Ma che ne sai Tu degli operai Verai 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 Tu re degli ignoranti Adesso non sei più Quello che noi vogliamo Cioè il ragazzo della via clou Adriano a vendere i rischi Adriano non basta solo la rai la rai la rai la rai Adriano quindi è meglio che canti Per tutti noi E i figli degli operai Verai 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 Grazie a tutti Ahahahah!